E saluti ragazzi e bentornati finalmente in questo tuffo nel passato. Questo non è un video, è un tuffo nel passato. Perché infatti, come sicuramente saprete, come anticipato da alcuni rumors e leaks, da due giorni Apple ha rilasciato una nuova versione di iPod Touch. Probabilmente magari i giovanissimi, super giovani che mi guarderanno, forse nemmeno sanno esattamente di cosa si tratta un iPod Touch. Sicuramente l'avrete sentito nominare, però per esempio l'iPod Touch è stato il mio primo dispositivo Apple in assoluto. Nel lontano 2011-2012 lo acquistai perché ai tempi era un prodotto molto attuale, molto particolare, bizzarro, esclusivo di Apple, nel senso che non c'erano equivalenti di altre marche, che permetteva di avvicinarsi al mondo iPhone con molto meno denaro. Era sostanzialmente un iPhone senza scheda SIM e che costava un sesto del suo prezzo. Se ci pensiamo con il nuovo iPod Touch di settima generazione, questo rapporto non è cambiato, o meglio non del tutto, ma in ogni caso, ne vale ancora la pena? Oggi sono qui proprio per rispondere a questa domanda. Non perdiamo tempo e cominciamo subito. Ebbene, come voi sapete, io ho sempre avuto la passione per gli iPod Touch, hanno sempre occupato un posto speciale all'interno del mio cuore tra tutti i dispositivi Apple, e quindi non appena è uscito alla versione nuova, la settima generazione, l'ho subito acquistata in versione 32GB di colorazione blu, che secondo me, tra tutte le colorazioni disponibili che poi sono le stesse della sesta generazione, è quella più bella, anche se peccato. Come novità avrei almeno voluto vedere dei nuovi colori in stile iPhone XR. Ad ogni modo, voglio portarvi l'unboxing in diretta, perché le scatole dell'iPod Touch erano molto particolari, e questa non fa eccezione a quanto pare. Ecco qui il dispositivo vero e proprio, che se non ricordo male non era facilissimo da rimuovere dal suo involucro di plastica, bisogna fare forza sul lato inferiore, eccolo qui. E già qui ci siamo direi rimuoviamo la pellicola. Qui c'è l'iPod Touch nuovo di settima generazione in tutto il suo splendore, anche se di fatto è uguale a quello precedente. E poi ovviamente abbiamo il libricino Designed by Apple in California, che contiene un rapidissimo libretto di istruzioni. Sotto di esso le cuffie EarPods, presumo ancora quelle con il jack, dato che questo è uno dei pochi dispositivi Apple del 2019 che preserva il jack delle cuffie. Infatti sono le cuffie EarPods con il jack, non sono state trasformate in lightning. E poi... oh mio Dio! Ragazzi, io mi ero completamente dimenticato di questo dettaglio, ma nella scatola degli iPod Touch non è presente il caricatore a muro. L'ha presa, è presente solo il cavo lightning. O vi comprate a parte un caricatore, oppure l'ho attaccata al computer per ricaricarlo. Questo è un furto legalizzato, ma sorvoliamo per il momento, perché io mi voglio concentrare su questo iPod Touch. Lo vedete questo? Questo era l'iPod Touch di sesta generazione. L'ho ritirato fuori per fare un confronto e non serve un genio per capire che siano identici. Questi due dispositivi sono uguali, letteralmente, non cambia niente. Cambia unicamente il processore che c'è all'interno di quello nuovo. Sostanzialmente Apple che cosa ha fatto? Ha preso il vecchio iPod Touch 6, l'ho aperto, ci ha messo dentro un processore un po' più aggiornato e lo ha richiuso, buttandolo in commercio. È questo quello che bisogna capire e che proverò a spieghervi mentre lo accendo. Questo non è di fatto un nuovo dispositivo, è semplicemente un aggiornamento dell'iPod Touch che abbiamo sempre visto in commercio. Quindi per tutti coloro che mi chiedono ma vale la pena acquistarlo? Vale la pena spendere 249€ per questo dispositivo? La mia risposta è la seguente. Se prima di questo giorno non sapevate nemmeno cos'era un iPod Touch o comunque non avevate intenzione di acquistarlo, questo non deve cambiare la vostra scelta. Non acquistatelo. O ancora, se possedete già un iPod Touch di sesta generazione, non state a fare l'aggiornamento, a prendere la settima, perché non ne vale la pena. Se invece eravate già intenzionati ad acquistare un iPod Touch e se vi serve un iPod Touch, Apple ha gentilmente aggiornato la linea per voi. Tra l'altro è arrivata l'app Apple TV. Mi ero perso qualcosa. Ad ogni modo sono qui per dirvi tutto quello che cambia con questo nuovo iPod Touch. Quindi se nel vecchio iPod c'era la potenza di un iPhone 6, nel nuovo iPod c'era la potenza di un iPhone 7. O 7 Plus, insomma, dipende. È sicuramente un fattore che fa la differenza. Vi faccio subito un test di Geekbench per potervi dare dei risultati effettivi. 2.586 di single core e 4.687 di multi core. Ora che però ci siamo tolti questi risultati statistici dalle scatole, a lato pratico cosa porta il nuovo processore A10, oltre che una maggiore reattività? Porta la realtà aumentata, ARKit, all'interno dell'iPod Touch, ciò che è una novità. E in particolare, per fare una prova di questa funzione esclusiva, voglio scaricare Angry Birds. Chi se lo ricorda questo gioco, ragazzi? Sicuramente ci avrete giocato magari ai tempi delle medie, nel 2013 appunto, ma io sono certo che non sapete che è uscita la sua versione in realtà aumentata. Prendete gli Invisimals, prendete Angry Birds, ed esce fuori lui. Lo scarichiamo immediatamente perché mi sembra un ottimo pretesto per provare la realtà aumentata sul nuovo iPod Touch 7. Boom! Installato, direi anche abbastanza veloce. Guardate cosa può fare. Ovviamente nulla che un iPhone di ultima generazione non possa imitare, però adesso lo abbiamo anche su un dispositivo da 250 euro. Può usufruire di tutte le applicazioni AR. Ovviamente non penso abbia ARKit 2, perché per quella è richiesto un processore più potente, ma l'1 ce l'ha sicuramente. E la prova è che, guardate, mi dice cerca una superficie piano. Questo significa, adesso starò registrando lo schermo per maggiore comodità, che io posso, una volta inquadrata la superficie su cui voglio giocare, vabbè, non so perché me la fa piazzare qui al lato, ma in ogni caso io posso piazzare il livello di Angry Birds e giocarci come se fosse sul mio tavolo, come se fosse un gioco da tavolo. Io qua posso caricare l'uccello e rilasciare l'uccello in 4D, praticamente, in 4 dimensioni, come se stessi effettivamente giocando io. E ho pure mancato il maialino. BAM! Più 500. In effetti potevo anche far crollare la torre, era una cosa un po' più semplice. Ad ogni modo, ragazzi, queste sono le capacità della R. In realtà si può fare anche molto di più, però in questo video ho pensato di proporvi anche questo nuovo gioco, che a me sta piacendo molto ultimamente. Per il resto, ragazzi, è un iPod Touch. Può fare tutto quello che può fare un iPhone, tranne che telefonare. O meglio, questo era il concetto ai tempi dell'iPod Touch 4 o 5, dove Apple li aggiornava annualmente e puntualmente il nuovo iPod Touch aveva lo stesso hardware dell'ultimo iPhone. Quindi, a rigor di logica, questo iPod Touch dovrebbe avere l'hardware di un iPhone XS Max. Ai tempi era così e lo si poteva veramente comprare a un sesto del prezzo. Adesso è rimasto a un sesto del prezzo, ma è di fatto un iPhone 7 senza parte telefonica, che usato in buone condizioni si trova a 300 euro. 350, 400, te lo prendi anche nuovo. Quindi la mia domanda è ha senso un iPod Touch 7 nel 2019? No, secondo me non ne ha moltissimo. Perché comunque anche la tua fotocamera non è più al passo quei tempi. La fotocamera è sicuramente accettabile, ma è, diciamo, superata. Ritorna uno dei vostri vecchi amici, eh. In quale video l'avete visto? Solo i veterani riusciranno a rispondere a questa domanda. Ad ogni modo scattiamogli una foto. Ma, insomma, non lo so ragazzi. Probabilmente potrebbe avere un senso magari acquistare il 32 giga a 249 euro se avete un motivo particolare, se ci dovete fare qualcosa. Non si discute invece su quelli da 128 o 256 giga. Il prezzo è assolutamente folle e ingiustificato. Sappiate che l'iPod Touch ha sicuramente il suo fascino. È estremamente compatto, materiali molto curati e, a tutti gli effetti, un'esperienza premium iPhone ad un costo ridotto. Per me è stato un fedelissimo compagno di giochi la sua quarta generazione durante tutto il periodo delle medie e sicuramente mi fa piacere rivederlo anche se riconosco che adesso sarebbe completamente inutile. Senza contare che gli mancano molte funzioni, per esempio il chip dell'NFC e non è una cosa da poco. Ma infatti, lo ripeto, Apple ha semplicemente aggiornato un prodotto già in commercio. Non ha rilasciato niente di nuovo. C'è un campo in cui questo sarebbe un best buy, sarebbe un affarone. Ovvero, se siete interessati al cyber security di iOS, se siete dei ricercatori di sicurezza, degli hacker, mettiamola così, e state svolgendo delle ricerche, per esempio sulla sicurezza del chip A10, dato che notoriamente per eseguire queste ricerche di sicurezza informatica occorre acquistare tanti dispositivi su cui eseguire i test, io vedo moltissimi ricercatori e hacker che acquistano in stock gli iPod Touch perché sostanzialmente è il metodo più economico per accedere a quel processore, per procurarsi quel processore. Quindi a meno che voi non rispecchiate questo 1% della popolazione iPhone e degli utilizzatori dei dispositivi della mela, non vedo come mai effettivamente dovreste acquistarlo. Io comunque ve l'ho portato sul canale in un unboxing e prime impressioni, sicuramente le prime impressioni sono ottime perché è scattante, è fluido ed è anche molto economico. Non lo trovo molto contestualizzato nel 2019, ecco tutto. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui a là ti potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti